La scelta dei brani, cioè quando scegliete un brano? Ah, la scelta è mia, assolutamente mia. Categorica? Sì, 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 io sono una dittatrice nella democrazia, cioè io decido i canti e loro li fanno. Ah, bene. Siete messi bene, eh, coro? Siete messi molto, molto, molto bene. E allora, volevo chiedere anche questo, adesso la seconda canzone che appunto voi andrete ad eseguire è La Domenica andando alla messa. Sì, sì, sì. Noi che siamo profani, cioè nel senso noi non sappiamo nulla di cori, quando si mette su un brano di questo genere, che anche questo è un grande popolare, la difficoltà, perché qui quante voci ci sono? Cioè i maschi che cosa fanno? Le femmine cosa fanno? Allora, i soprani sono la prima voce, eseguono la cosiddetta melodia. I contralti… I soprani chi sono? Alzate le manine. Alzate le mani. No, perché almeno anche a casa vedono. Voi siete i soprani, i soprani vuol dire la voce in alta? Sì, la voce in alta che fa la melodia, proprio quelli che cantano la domenica andando la messa. Direttrice. E poi? I contralti fanno la seconda voce. Com'è? Com'è la seconda voce? Contralti? Uuuuh, bassa. È più bassa? E com'è? Uuuuh. Proprio così. E poi? Poi abbiamo i tenori che fanno la loro parte e i bassi che spesso si dividono in due sezioni, i baritoni che sono un intermedio tra i bassi e i bassi profondi. Ah, i bassi e i bassi profondi. Sì, sì, sì. E lei è il direttore, cioè il presidente, che cos'è? È un basso profondo e un basso? No, un basso baritono. Lei è un basso baritono? Sì, sì, sì. Stia lì il presidente, basso baritono. E allora a questo punto andiamo subito con la domenica andando alla messa. Quanto tempo ci avete messo a mettere su questo brano? Ma non tanto, è un brano che abbiamo in repertorio da parecchi anni e quindi abbastanza semplice alla fine, sì. Un bel cavallo di battaglia, soprattutto andando nelle case di riposo. È un canto che tutti gli anziani ricordano e che quindi cantano con noi ed è bellissimo perché noi diamo e ma anche riceviamo delle emozioni incredibili da questi anziani che ci hanno insegnato e che ci continuano a insegnare tante cose. Pronti? E a questo punto direttrice a tutti in coro, il coro stelle alpine con la domenica andando alla messa. La domenica andando alla messa, compagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori. La domenica andando alla messa, compagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei amatori, mi sorpresero i miei amatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.